Questo ritratto ritengo una propria sorpresa per tutti che vengono nel nostro museo, trovare un ritratto di Claudio Montiverdi nella collezione Innsbruck. Claudio Montiverdi, ovviamente tutti lo conoscono come compositore, ma è stato molto di più, è stato uno dei grandi musicisti, fine 500, che alla corte dei Gonzaga a Mantua si sviluppava come una personalità dell'arte, come proprio un direttore di musica per controllare e anche per organizzare un po' tutta la musica di corte, ma anche di chiesa di questo gran palazzo ducale di Mantua. Ha avuto un successone a livello europeo con la sua opera L'Orfeo, che anche oggi di tanto in tanto è visibile, ma Montiverdi faceva molto di più nella musica, quindi il suo modo di mettere insieme, di organizzare le diverse voci sembra quasi una sorta di quadrofinia, per così dire, e poi questo cambiamento fra musica sacra e musica, per così dire, di corte profana, è anche affascinante. Questo ritratto colpisce il visitatore subito attraverso gli occhi dell'artista, quindi hanno un modo di seguire, perché una volta stabilito il contatto, ti segue quasi ovunque tu vada in quella sala del museo, e poi è tutto concentrato alla sua faccia e alle sue mani, che hanno in mano qualche esempio del suo lavoro. Quindi credo che c'è una presenza della sua persona attraverso una pittura eccellente di Bernardo Strozzi, un nome anche abbastanza famoso, che colpisce ogni spettatore.